Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Andiamo a rispondere alla consueta domanda I decchi leggendari 2 che usciranno il 14 marzo E ho dovuto usare la schermata di fantasia Perché non trovavo i numeri Non mi ricordavo la data Quindi, vabbè, andiamo a vedere su fantasia che ci hanno la data Che uscirà il 14 marzo Sono da prendere, li prendo Ora vediamo Prima di iniziare, come sempre ragazzi Io vi invito a iscrivervi al canale, come sempre Aggiornati, aggiornatissimi Io vi ringrazio Ricordo che l'iscrizione ci dava una mano considerevolmente alta E io vi ringrazio ancora Come sempre vi lascio il link fantasia sulla descrizione Con il codice sconto e il link affidato per prendere i deck Passando tramite il link ovviamente aiutate tantissimo il canale Detto questo andiamo a vedere le carte E poi andiamo a vedere anche il prezzo delle carte che hanno In modo da vedere più o meno una Per fare una cosa completa Allora, eccoli qua Deck Leggendari 2, Joy, Kaiba, Yugi Adesso capisco perché li hanno ristampati Col fatto che ci sta X-Stadia dentro Ora lo capisco perché Dai Ci poteva anche stare Non me l'aspettavo ma ci poteva anche stare Però dovevamo pensare a una cosa subdua di questo genere Dovevamo pensarla Allora, possiamo vedere le carte del dragone rocchi rossi E non mi ricordo mai Drago fiamma nera Arci demone Drago a retro occhi rossi La pietra nera Il drago metallico nero Cioè, il drago metallico nero comunque si gioca tantissimo Non tanto la pietra Però se uno si può fare red dice Anche se poverino red dice è stato lasciato un po' lì Prendo le tascia Spadella legatore Il cucciolo di drago Eh raga, Jinzo C'ha un amore incredibile per Jinzo Quindi Spadella cino di fuoco blu Secondo del tempo Gifrid e Fenice Evocatoro Gemini Poi chi gliel'ha inculcato i Gemini a Joy? Non c'è una Così a caso gliel'hanno messi? No, ci stanno E li vedo bene Nelle mazze di Joy Perché Vabbè Lui usa Gifrid Fusione occhi rossi Carte della pietra rossa Può essere interessante Volimentazione Salamandra Capra spiadorio Se volto Ragno roulette Supervisionare Tifone Simboli del dovere Il ritorno Lo spirito Il kunai Richiamo Tributo Soffro incendiario Se giocate Gut Può essere interessante La maledizione di Anubis Drago metallico nero Drago metallico Fiamma Occhi rossi Mi sono inventato Drago fiamma Che è stato ristampato Tantissime versioni Arciniamo Redeschio nero La spada Dell'allicatore Proviamo bene Tre draghi bianchi Blu Tre artwork Differenti Spirito bianco Kaiba Nelle pietre La fanciulla Il protettore Maestro Ascia da guerra Il genio Vorze Drago di Alexandrite Cavaliere lama Lampada Il drago Il drago Il re delle paludiche Buono Cavalcatrice dei venti Di tempesta Soffio Richiamo del bianco Il mausoleo Polibilitazione Contro l'avversario Impiccione Destino Velodia del drago Regole antiche Baratto Dove tu abbai La giara La fusione Da inaspettato Anche esso Non è male Indietro Terminano i mazzi Non attacco Ornì Attacco finale Magia ombra Grazie alla fusione Riserva Amphora e la avarizia Drago argento Peccato che non c'è quell'altro Drago finale L'occhio blu Primo dei draghi Anche esso Non è malaccio Come carta Le tre divinità Giocabili Attacco Magia nera Bruciante Anima Immortale I segnamostri E le carte Di exodia Il leggendario Exodia incarnato Legame dei compagni Oblaterade Exodia Exodia negros Mago nero Maga nera Combattente Lame Magosilente Ingannatore Gardena Valchino Maga del sangue Blockman Marshmallow Sanghan Sarcovo Spade Vabbè Nelle coltelle Un tratto Connexione Messaggero di pace In realtà è molto buono Ancora molto buono Il villaggio segreto Duality Forza di fless Per l'immagine Cilindro Circo Mago Soldato di riservo E legame gravitazionale Quindi queste sono le carte Ne massimo Andiamo a vedere I prezzi Contatto comunque Di lista Quindi al limite potete vedere Questa di lista Se non volete E bloccarvi lì Sono assolutamente Bassi i prezzi Anche se Effettivamente Diciamo che Parte da 20 centri Prezzo medio Di un euro Comunque Non è che sia Infattibile Quindi abbiamo anche Un bleed rate Che Dovrebbe costare Un cavolo Sì Io vado sempre A prezzo medio Quindi 70-80 centri Dark burning attack Che comunque Non è male Non è male Poi abbiamo la pietra Che in realtà Sta un pochino Ah Su un paio d'euro Un euro 52 Ti devo dire Il drago finale Occhi blu Il re delle paludi Che comunque Non è male La duality Me lo dico Il drago di risveglia Comunque vabbè La stone Questa pure lei Ok Allora Poi messaggero di pace Che comunque Si toccosticchia Le sue 50 centri Un euro Più o meno I pezzi di exodia Ah Il drago bianco Occhi blu Nell'artwork Originale Ti devo dire Va bene Due centesimi Però Prezzo meglio Due tre euro Ti devo dire Non è malaccio Non è malaccio Lui Me lo aspettavo Costicchiasse un po' di più Però ci sta Anche la Fusione occhi rossi Mi aspettavo Costasse un po' di più Però Va bene Poi Sangha Jinzo Salamandra Exodia Ok I token Che non sono neanche malaccio Dai Per 10 centesimi Ok Ok Il prezzo Comunque Quello la Di tutto Di tutte le altre carte Ma per completezza Le andiamo a vedere Fusione sostituto Tutto il resto Drago Perché il mondo drago Era fortissimo Ai tempi Finalmente forte Lo ricordo Molto molto forte Eccoci qua Allora E concludiamo Con le ultime carte A 200 centesimi Allora Ovviamente Per Diciamo A livello Di competitivo No Se dovete Prendere Qualcosa A livello Competitivo Assolutamente No Naturalmente A livello Collezionistico Assolutamente Si In questi Qua Ve le consiglio Anche Perché Comunque Pure Se la Seconda Ristampa È Comunque Un oggettino Bellino Da Avere Potrebbe Essere Comodo Se volete Anche Exodia Quindi Se volete Anche Exodia Prendete Questo Qui E Diciamo Concludete In bellezza No Quindi Potrebbe Essere Galino Per Quel Senso Ovviamente C'è Qualche Cartina Che In realtà Utile Da Utilizzare Ovviamente Ripeto Essendo Anche Una Ristampa Del 2016 Addirittura A Pochi Cart Che Possono Essere Utili A Exodia Che Poi Dovrà Essere Implementato Con Quello Nuovo Però Non è Detto Che sia Un mazzo Competitivo Assolutamente A livello Collezionistico Vi ripeto Lo consiglio Assolutamente Anche Perché Poi Credo Che Ci hanno Tirature Abbastanza Limitate E Di Gioco For Fun Tanto Per A livello Ovviamente Di Gioco Più Avanzato No A sto Punto Conviene Magari Se Volete Giocare Exodia Non Volete Prendervi Questo Qui Ovvio Che Andate Di Singolo Assolutamente Però Appunto A livello Competitivo No Però A livello Molto For Fun E Collezionistico Si Vi direi Di Si Detto Questo Ragazzi Fatemi Sapere Voi Cosa Pensate Ovviamente Noi come sempre Ci vediamo In un prossimo Video Io lo stronzo Già l'ho preordinato 4 mesi fa 3 mesi fa 2 mesi fa Quando hanno aperto I preorder Perché a me piace C'è un altro Però a me piace Quindi L'ho preso Fatemi sapere Voi cosa Pensate Noi come sempre Ci vediamo In un prossimo Video E Un saluto A tutti